Sì vabbè, eh va bene, io copro il tetto blu, te cerca di guardare, ok ok, ottimo, corazze, corazze vi servono, lascio qua dentro, tre corazze lasciate, corazze qui, ok bene, lo sei preso, avete una corazza, sì sì, anche due, oh gentilissimo, quanti ne hai Jack? Ti corazze una, eh, tieni, tieni, qua qua qua, 3-3 così siamo, ok, allora dalla me, dalla me, questa non so neanche chiama Siria, ah, elicottero, hanno preso Bobby, fallo esplodere, l'hai ucciso? L'ho ucciso, ce n'è un altro, un colpo, un colpo, L'ho ucciso, no, cazzo, merda, gli mancava un colpo, ah, è l'M16, ok, che sfiga, oh, da dove? Occhio, occhio Jack, vai in, dal tetto, dal tetto, dal tetto, madonna santa, figlio di una grana amatrice, Vedo una stazione medica, ah, dal tetto, merda, Jack, dal tetto rosso anche, eh, lo so, lo so, due tetti ci sparano, no, 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 anche qua, aspetta, eh, da di là, verso la foresta, Porca proia! Ah, due tetti! Ma, cosa? Dov'è? 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 Non lo vedi? Ah, ecco, ma donna mia! Da dove era? Ma vabbè, quante gente c'era? Vabbè, dai, dai, da partito, da partito, da partito, da partito. Sì, ma c'è anche un, sì, non poteva muoverci, che erano morti. Bello il fall, madonna, già che ho fatto un fall che è bello forte. ma non è meglio il VLK eh ma io con quello lì ho più controllo il VLK mi si sballa top ah ok ok che puzza che c'è qua il cane ha sganciato va che palle e la pesa dello schieramento è un buon momento per riscaldarsi 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 tutti per riscaldarsi dovremmo usare la legge del più forte perchè il favolo non è partito dai ecco io ho già che entro da dietro eh colpo della frega merda aspetta abbiamo un coltello da dietro no non c'è nella merda no non c'è l'arma da dietro no tu ti sento carazza tu ti sento carazza la faccio tu cattolio non c'è l'arma da dietro come si fa non esserci un'arma non c'è l'arma non c'è l'arma non c'è l'arma non c'è l'arma oh sto qua posso ancora venire o no veni da me veni da me ma ma posso venire a animarti o no fabbro arrivo allora ah vabbè niente niente jack io ho bisogno di un'arma vado qua aspetta un attimo si si arrivo io ti vengo a usare poi prendo la taglia dai tanto non c'abbia niente da fare ecco fa già ma io fossi in te prima mi mi riabituerei con le nuove sensibilità visto che è sbagliato per le sensibilità poi dopo cambierei ma i tasti cosa usi quelli che uso io adesso scontro in corso preparati a combattere sei il prossimo no dico per sparare eh ma te già sei scarso di tuo se poi ti compri la vita se vinci questo scontro torni in prima idea eh ma con la play 4 è più difficile per me per il joystick è più difficile che è più difficile dai andiamo ah guardalo l'ho visto è tipo dai in fondo non so se è un cieco o un'arma a lungo distanza la 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 due jack e se riesci e dai quello davanti senza qualazza quello davanti senza qualazza puttana la bestia tua mamma oh posizionati jack così più stabilità vabbè avanziamo avanti chino vabbè c'è chi non c'è a me senza scudi quello è senza vita jack la nostra taglia eh aspetta aspetta Anche me a Cecchino continua a colpirmi Mi sto avvicinando, dove muori? Vai continua continua Già facciamo? Una terra, una terra, mi devi aiutare Ok, intanto Vengilo sotto Taglia, taglia Via, via, vai via Ah no, ma no, non sei te questo Ah no, è il fabbro Ma che cazzo Mi ero sbaglio, mi ero sbaglio No, oh è mio Ma pezzi di merda Ah, tieni, tieni Così vi da la skin, così vi da la skin Datemi soldi, veloci, veloci, soldi, soldi Non perdiamo tempo Così vi da la skin del Cecchino, se non lo avete già Un lancio di equipaggiamento in arrivo Grande, è da caricare su Youtube Qua, Jack, due scuri per te qua Ormai Così, andiamo Allora, alle non dobbiamo più dire niente Ma più che altro ragazzi, infatti io non capivo Io pensavo che il fabbro fosse molto Andiamo alla... No, è risolto per i nostri impeccati Eh, infatti dicevo, pensavo fossi te Jack guidava il cannon, no? Sì, capito No, ero dietro per sparare Eh, esatto, infatti Allora, adesso dobbiamo chiamare l'elicottero Dobbiamo difendere la zona E quando arriva l'elicottero Basta mettere quadrate Ed è finita E prendiamo 5600 a testa Che è tantissimo Però ci vedono, eh Oh, no Sopra qualcuno? Ah beh, è un caricatore Sopra c'è qualcuno? Sì È appena atterrato qualcuno Sì, lo vedo Atterra... no, no È senza scuro, ascoltavo Oh! Oh, da dove? Da dietro Lo vedo Ah, è da sopra, è da sopra Ah, c'è, non ti mangiuntato Ti mangiuntato Metticate quello che ho detto Donna mia Merda, c'è forte Via, via, via Io le cazzo... Ho chiamato l'aereo Il scevuto Elicoptero in arrivo per il deposito Ci... ci... Allora Il tipo sopra ci controlla Voi... Io... no, no Non salite tutti Non salite Ah, visto, visto Ucciso, ucciso Ti mangiuntato Tieni qua Tieni qua Colpi cosa Tieni questi Da Portatele Il bagaglio, ragazzi Portatele Al coso L'helicottero Borsa pronta Chi ce l'hai i soldi Devi... devi andare sotto Come il mallocco Beh Oh, ma c'è down Cioè Ah no, ce l'avevo io Ce l'avevo io Ce l'avevo io Ce l'avevo io Vi ha dato il cecchino Laguna Te Ok, mi serve un colpi dell'assalto Più, più Colpi dell'assalto Te, Fabro, dammi in altri 60 Ma andiamo qua Scusate, ci sono le munizioni Andiamo alle munizioni Avete ragione Merda Ho trovato il mirino perfetto Per... Per... Il... Per il mitraglione Pochissimi Ma me ne hai dato i 20 Sto gioco di merda Ma va a 60 Oh Suona il telefono No, non è lui Non è lui Merda, io sto morendo di caldo Ma te non c'hai caldo C'è di giocare alla play Fa venire caldo Allora Andiamo al verde No, usa un deodorante rinfrescante Sì, ok Hai vero? Sai che ho detto Jack Ha detto che Usi un deodorante rinfrescante Quindi non senti il caldo Arriva un lancio di due facette Oh Jack, minaccia due Minaccia due, regazzo Oh cazzo E chi hai ricercato? Ah sei tu ricercato Io, io vado sopra sto tetto eh Secondo me sono dalla casa Quella vicino a sto posto Avete presente qual è? Sì Sì, infatti andiamo a prenderla Mi faccio emergenza Occhio eh Andiamo a farcela? Ah forse l'ho visti sapete? Forse sono dalla cassa No? Non è vero No, no, non è vero Andiamo alla cassa No, sì invece Con la cassa Sì Pinga 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 please Approvvigionamento Eh c'è la cassa in mezzo ai coglioni È comunque dietro la scatola eh Ah Jack Non hai coratte? Dimmelo Qua Cos'è? Zero adesso Zero Andiamo a farci sta taglia di merda che mi ha rotto le palle Sì sì ho visto ho sentito Cerco di tornare in source Arrivo Non riesci a tornare dentro Oh 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 Eccolo Merda È lì sotto Mi ha buttato giù E mi ha buttato giù Aia mi sparano Mi sparano Oh Merda Eh Jack Aspetta Sono sceso io Sono sceso io Dov'erano? Quello della cassa ti ha ucciso Ok uno l'ho ucciso Ok uno era qua Un albero Basta con le cazzate Il tuo l'ho ucciso Occhio Ah eccolo Dove ad essere di là tipo Sì È da una stazione medica Merda guarda quanto è stabile Porco giù davò Merda Le avevo tolto tutto Ma che cazzo Ma che cazzo di animi c'ha? Allora uno c'ha Ah no è dall'alto che ci ha uccisi Mannaggia l'ho dalla pizza madre mamma Bevo un cazzo